Noi siamo andati al museo del Briganti che sta a Rocca Caramanico, c'è un grandissimo bellissimo museo, dove noi con le fotografie abbiamo ripreso questi abiti che vedete, quindi non è una cosa a casa, non è che ci siamo vestiti per fare gli scemi, che dietro c'è un lavoro e la nostra associazione si occupa anche di lubricantaggio, organizziamo convegni e tante altre cose, quindi che volevo dire, noi siamo grandi appassionati, quindi lui non è così, è proprio, detto da te un complimento, grazie, adesso facciamo un pezzo classico appuntese, perché noi facciamo musica perfettamente, però molte volte spaziamo anche, facciamo